Un mare di eventi che coinvolgerà tutta la città di Montesilvano, i cittadini ma soprattutto i turisti. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età, musiche, teatro, festival, shopping, sport, spettacoli. Se si pensa che il 20% dei turisti sceglie Montesilvano soprattutto per gli eventi. 200, tutti gratuiti, contenuti in una brochure distribuita nelle strutture ricettive e domani con il quotidiano Il Centro. L'assessore ai grandi eventi Deborah Comardi accenna solo a qualche appuntamento dei 200. Per Ferragosto, lo dico subito perché è uno dei nomi di punta, avremo Alex Britti al Teatro del Mare e avremo Samuel Day Subsonica nell'area del Java Beach Party. Ma non solo, saranno dislocati su tutto luglio e tutto agosto perché avremo gli audio 2, avremo le cantautrici il 9 di luglio, avremo il 25 di luglio le vibrazioni, avremo il 4 di agosto Ivana Spagna però sul tratto del Java Beach, l'11 di agosto i Tiro Mancino, avremo il 13 Nesli e Critical. Dopodiché avremo il 29 di luglio, avremo Aiello per i più giovani insieme alla scelta di Nesli e Critical. Avremo Anna Tatangelo il 19 di agosto. Tanti, tanti appuntamenti di big nazionali ma non solo. Tornerà infatti quest'anno il Mercatino dei Bambini tutti i sabati, tornerà il Festival Letterario, tornerà la Corrida, anche questo è un format che sta crescendo negli anni. Ci saranno tanti appuntamenti poi sempre sul Pontilevi all'Europa, grande spazio alle serate danzanti, lunedì e martedì al Parco Le Vele. Con la collaborazione di associazioni e commercianti e c'è un'app per consultare tutti gli appuntamenti, il sindaco Ottavio De Martinis. Quest'anno c'è una bella novità che abbiamo pensato che è quella della nostra app, che oltre a servire per tanti aspetti quotidiani, darà la possibilità a chi, insomma, cittadino o anche turista, di sapere quotidianamente quali sono gli eventi in programma e non soltanto quotidianamente perché nei giorni precedenti verrà comunque mandato il programma settimanale per poi riprenderlo quotidianamente. Quindi ci sarà una diffusione molto più capillare, molto più smart, diciamo così, e siamo felici, insomma, anche di questo perché riteniamo essere stata un'ottima intuizione che darà i suoi frutti.